Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso una notizia straordinaria con i loro followers. Presto diventeranno genitori. Attraverso un toccante post su Instagram, Giulia ha esposto la sua gioia e le profonde emozioni legate alla prossima paternità. L'influencer ha descritto la gravidanza come un regalo atteso con amore maturo, annunciando l'inizio di un capitolo entusiasmante nelle loro vite. L'affettuoso commento di Ariadna Romero Ariadna Romero, l'ex compagna di Pierpaolo Pretelli e madre del loro figlio Leonardo, ha dimostrato un affetto sincero e un sostegno totale alla coppia. Appena appresa la notizia, Ariadna ha lasciato un commento carico di entusiasmo sotto il post di annuncio, mostrando tutta la sua felicità per l'arrivo imminente del nuovo membro della famiglia. Una connessione speciale tra Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Ariadna Romero. Nonostante la separazione, Ariadna e Pierpaolo hanno mantenuto un legame di rispetto e affetto reciproco, soprattutto per il bene di Leonardo. Ariadna ha sempre manifestato un rapporto positivo con Giulia Salemi, e il piccolo Leo si è affezionato all'influencer. Questa armonia familiare ha ricevuto applausi dai fan per la reazione positiva e supportiva di Ariadna. Nuovi orizzonti per Ariadna Romero. Oltre ad essere una madre amorevole, Ariadna Romero vive una storia d'amore felice con Julio Iglesias Jr. Figlio del celebre cantante Julio Iglesias, l'annuncio della gravidanza di Giulia Salemi ha portato gioia non solo ai diretta interessati, ma ha anche risvegliato felicità negli altri che li circondano, come l'ex compagna di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero.